dunque la classificazione è quindi una forma di apprendimento molto importante la classificazione, quanto sia importante lo vedremo nel prossimo modulo didattico la classificazione viene comunque fatta grazie a un maestro che ci dice i funghi che abbiamo raccolto in base alla dimensione, altezza e larghezza per esempio se sono venenosi o se sono commessibili e abbiamo visto quindi che la classificazione e l'apprendimento nella forma di classificazione consiste nel andare a individuare quali sono le regole in base alle quali si può discriminare l'appartenenza del nostro esempio a una categoria piuttosto che a un'altra in pratica fare ciò significa cercare di emulare il processo decisionale che sta nella mente del maestro è come se ad esempio nel caso che abbiamo qui sulla slide in cui supponiamo che l'insieme delle regole la funzione ignota H che dovevamo ipotizzare nel corso dell'apprendimento emulante la funzione F ignota che era quella adottata dal maestro fosse questa qui se 2 è minore, se la larghezza è maggiore di 2 e la larghezza è minore di 4 e se l'altezza è minore di 2 allora il fungo è commestibile in tutti gli altri casi il fungo non è commestibile beh, è come se avessimo dovuto applicare in sequenza una serie di criteri di test che potevano stare ad esempio nella mente del maestro il maestro andava a vedere prima se la larghezza era minore di 2 nel caso che fosse vero sicuramente non era commestibile nel caso in cui questo è falso faceva un altro test andava a vedere se l'altezza era maggiore di 4 anche in questo caso avrebbe dato per velenoso il fungo ma se questo invece non fosse stato vero avrebbe fatto un altro test ancora sull'altezza se l'altezza era maggiore di 2 ancora il fungo sarebbe stato considerato dal maestro non commestibile e solo nel caso in cui tutti e tre questi test avessero risposto falso il fungo sarebbe stato considerato dal maestro commestibile in pratica quello che sto dicendo qui è che qualunque problema di classificazione può sempre essere trattato in forma di albero di decisione in pratica si tratta di capire date le regole che definiscono l'appartenenza di quell'esempio una categoria piuttosto che un'altra come applicare queste regole con quale sequenza il concetto adesso di sequenza diventerà davvero importante ripeto un problema di classificazione può sempre essere trattato in forma di albero di decisione anche l'esempio che abbiamo usato nella unità didattica precedente il riconoscimento di oggetti dalle loro forme può essere visto come un albero di decisione come e cioè prodotto la classificazione da un albero di decisione un albero ignoto che sta nella testa del maestro e che però il discente dovrebbe cercare in qualche maniera di emulare per esempio il maestro poteva avere questo criterio questa sequenza di test da applicare che definiscono di fatto una precisione andiamo a vedere degli oggetti quanti sono i buchi se il buco è molti oppure sono tre allora questo non corrisponde a nessuno degli oggetti che abbiamo davanti se i buchi per esempio non ce li ha a questo punto dobbiamo andare a vedere qual è la taglia perché se la taglia è piccolo allora sarà un bullone altrimenti sarà una penna e se invece i buchi sono solo uno bisogna andare a vedere la forma se la forma è lunga sarà una chiave se la forma è compatta sarà un dado e così via come vedete ci sono alcuni percorsi nell'albero decisionale l'albero è questo qui che intuitivamente poi dopo andremo a definire meglio ma corrisponde all'applicazione in sequenza di una serie di test dove i test sono fatti in corrispondenza a degli attributi che saranno scelti per definire le categorie ci sono comunque alcune foglie di questo albero che non corrispondono a nessun esempio in generale se no un problema di classificazione può essere portato a termine in maniera corretta mediante un'albero decisione quando tutte le foglie appartengono o ripeto a un caso in cui non abbiamo alcun esempio che corrisponde a quella sequenza di valori dei test degli attributi oppure abbiamo che la foglia dell'albero corrisponde a un caso in cui tutti gli esempi che sono rimasti appartengono a una medesima categoria a una medesima classificazione il messaggio più importante in cui siamo partiti è che ogni problema di classificazione può essere trattato in forma di albero di decisione e quindi è come se il maestro abbia un albero di decisione nella propria mente il discente deve capire deve riconoscere qual è questo albero di decisione allora cerchiamo di definire un po' meglio cos'è un albero di decisione il valore di attributi ottenuti mediante una sequenza di test è importante l'ordine in cui vengono applicati questi test restituisce una decisione cioè un singolo valore di output che significa o non so cosa dire perché questo è un esempio in cui cioè in base a questa sequenza di valori di attributi non ho esempi che mi possano far capire può anche darsi che non esista proprio questa combinazione di valori di attributi oppure è una combinazione di valore degli attributi tale per cui senza ombra di dubbio posso dire che l'oggetto percepito l'esperienza fatta appartiene a una categoria piuttosto che a un'altra gli attributi di input possono essere discreti e qui funziona abbastanza bene effettivamente l'albo decisione anzi come vedremo una volta che viene prodotto l'albo decisione l'albo decisione di senso sarà molto efficiente utilizzarlo per classificare oppure continui nel caso che i valori degli attributi sono continui abbiamo qualche problema un po' vedremo anche come eventualmente gestirlo se nel caso più semplice come il caso dei funghi in cui dovevamo decidere se erano commestibili o non commestibili cioè l'output ha due soli valori classi sono solo due classificatori in questione che viene prodotta la decisione si dice booleano altrimenti è un classificatore normale a questo punto i nodi possono essere o interni oppure i nodi fogli i nodi fogli l'abbiamo detto sono i risultati finali del processo decisionale o sono casi in cui tutti gli esempi che corrispondono a quella sequenza di testa appartengono alla stessa categoria oppure non ci sono esempi che appartengono quella sequenza di valore di test dunque adesso seguendo l'esempio del testo che è quello che uno degli autori di quel testo utilizza quando va al ristorante lo scenario quindi che dobbiamo avere in mente per capire quello che stiamo per dire è questo qui che c'è una specie di un papà diciamo che quando va al ristorante prima di decidere se mettersi a sedere o no compie una serie di test mentali diciamo e questi test non sono noti al figlio che magari va al ristorante insieme a lui però dall'esperienza dalla consuetudine che il figlio ha avuto nell'andare al ristorante col padre avendo visto quante volte si è fermato a mangiare e quante volte invece si è non si è fermato e andato a cercare un altro locale dovrà cercare di capire quali sono i criteri e quindi come qual è l'albero di decisione che ha portato ogni volta il padre a fare le proprie scelte e cioè supponiamo di avere una proposizione obiettivo l'ho chiamata così che quindi ha un valore vero falso aspetterò o non aspetterò per mangiare e supponiamo che l'albero decisionale sia basato su dieci attributi di input alcuni dei quali hanno un valore vero falso altri invece hanno un valore enumerativo se mi vuole numerativo primo criterio per esempio ma non in ordine importanza quindi li mettiamo qui in ordine alfabetico se c'è un'alternativa in un ristorante vicino se c'è un'alternativa vero falso se il ristorante ha un'ara bar comoda dove aspettare vero falso se ha un weekend vero falso se si è affamati vero falso quant'è l'affluenza in questo momento quant'è il numero degli avventori nel locale nessuno alcuni è pieno la categoria di prezzo del ristorante una stella due stelle tre stelle fuori piove vero falso abbiamo avuto una una prenotazione vero falso genere del ristorante cucina francese italiana thailandese un mcdonald quant'è la stima del tempo d'attesa che mi è stato comunicato da parte del cameriere 10 minuti mezz'ora un'ora più di un'ora questi sono i criteri e supponiamo che papà abbia e non l'abbia mutato nel corso degli anni in mente un albero decisionale di questo tipo prima voglio vedere il numero degli avventuri se non ci sono avventuri e quindi si può mangiare immediatamente non fa altre domande e quindi si mette a sedere tranquillo e quindi anzi chiedo scusa se non ci sono avventuri addirittura va via perché questo è una è una prova del fatto potrebbe essere visto come una prova del fatto che in quel locale si mangia male se invece ci sono alcuni avventuri e quindi però c'è anche posto a mettersi a sedere appunto come dicevo prima si mette a sedere e mangia se invece il numero degli avventuri è tale per cui non ci sono posti a sedere allora il papà chiede al cameriere una stima del tempo che ci vuole per mettersi a sedere a mangiare se la risposta è più di un'ora allora si va via se la risposta è meno dieci minuti allora a questo punto si aspetta se la risposta è mezz'ora allora a questo punto il papà valuta il grado di fame che lui e il figlio hanno se non sono affamati mezz'ora aspettano se sono affamati allora chiedono si chiedono chiedono a se stessi se c'è un'alternativa se non c'è un'alternativa allora rimangono se c'è un'alternativa si chiedono se fuori piove se fuori piove rimangono se fuori non piove non rimangono e vanno via nel caso in cui invece il tempo di attesa era fra mezz'ora e un'ora si chiedono subito se c'è un'alternativa se non c'è un'alternativa vanno a vedere se c'è una una prenotazione e così via quindi vedete quello che è l'albero dizionale incognito che è quello che ogni volta ha prodotto il papà a decidere se fermarsi o non fermarsi il figlio non conosce quest'albero dizionale però deve crearsene uno che produca delle delle scelte di classificazione simili questo è un classificatore booleano come vedete tutte le foglie hanno yes o no cioè mi fermo a mangiare oppure non mi fermo a mangiare beh in pratica cosa succede succede che possiamo mappare un albero su una funzione proposizionale una funzione proposizionale che per esempio avrà valore di verità si se per esempio il numero degli avventori non è nessuno e non è full ma è alcuni se gli avventori sono alcuni quindi il valore di verità è vero come potrebbe essere vero è vero nel caso in cui il numero degli avventori è full e il tempo di stima è entro 10 minuti come è anche vero nel caso in cui il numero di avventori è full il valore della funzione del testo weight estimate è mezz'ora e il valore di angry è no e così via cioè ogni possibile percorso che porta dalla radice fino a una foglia yes è un valore true e quindi noi possiamo mappare un albero proposizionale con una una formula proposizionale in cui i vari percorsi che portano alle foglie yes sono in alternativa fra di loro invece ogni percorso rappresenta una congiunzione di valori in corrispondenza ai test attributo valore quindi quella che andiamo a definire è una formula proposizionale come una formula proposizionale che ha lo stesso valore decisionale dell'albero di decisione è una formula proposizionale in forma normale disgiuntiva avventori alcuni oppure avventori full e tempo di stima 10 minuti oppure eccetera eccetera quindi quante saranno queste formule per capire qual è la difficoltà di poter trovare l'albero decisionale incognito beh queste formule sono tantissime e quindi di per sé sembrerebbe un problema di difficoltà insormontabile perché noi sappiamo che una formula proposizionale può avere una formula proposizionale a una complessità stabilire se la formula proposizionale è vero o falsa dipende dal numero delle lettere proposizionali qui le lettere proposizionali sono il numero degli attributi nel caso in cui gli attributi sono direttamente proposizionali più in realtà per ogni caso ha un valore numerativo la lettera posizionale corrisponde all'attributo in corrispondenza di quel particolare valore numerativo quindi per esempio weight estimate 010 è una lettera proposizionale weight estimate 1030 è un'altra lettera proposizionale ovviamente quindi il numero di lettere personali è enorme il numero delle possibili combinazioni è 2 al numero di lettere proposizionali ma in realtà il numero di possibili funzioni di verità che è quelle che corrispondono all'albero decisionali in realtà sono 2 elevato a 2 alla n dove 2 alla n è il numero di possibili combinazioni di lettere posizionali 2 alla n è il numero di possibili combinazioni 2 elevato alla 2 alla n è il numero di possibili funzioni di verità e ad un albero corrisponde una funzione di verità in realtà addirittura la stessa funzione di verità potrebbe corrispondere a più alberi quindi il numero degli alberi è veramente un numero che può arrivare all'infinito quindi arriva di fatto all'infinito però questo in realtà non è un grave percorso un grave problema perché noi possiamo utilizzare nel andare a trovare l'albero decisionale a stimare l'albero decisionale delle strategie di che consentono di poter in realtà trovare un albero decisionale magari non quello più piccolo possibile non l'ottimo in termini di dimensione ma uno che in qualche maniera soddisfi gli esempi che vengono utilizzati per fare l'apprendimento quindi il training set lo possiamo determinare in maniera relativamente facile supponiamo ad esempio sempre seguendo il libro di avere 12 esempi che fanno parte della storia che il figlio ha avuto di andate al ristorante insieme al papà e supponiamo che il figlio abbia memorizzato tutti i valori dei parametri che hanno corrisposto a queste 12 uscite al ristorante che ha fatto con il padre quindi in pratica la tabella che il figlio ha costruito è un training set in cui è un insieme di coppie input output dove l'input è un vettore di 10 valori che corrispondono ai 10 parametri e y invece è la decisione circa la classificazione in nostro caso è un classificatore booleano e corrisponde alla sola proposizione aspetterà non aspetterà e ovviamente tutto questo per semplicità di idrattazione didattica quindi abbiamo che y per esempio prendiamo la prima sera che sono uscito assieme c'era un'alternativa non c'era il bar non era un weekend erano affamati c'erano degli avventori ma non era pieno il locale era un locale costoso non pioveva avevano la prontazione era un ristorante a cucina francese se il tempo di stima di attesa era inferiore a dieci minuti effettivamente hanno atteso e così vedete gli altri dodici esempi per esempio nel caso della cucina francese abbiamo due esempi di ristoranti francesi che sono stati frequentati dai due quando c'è stata un tempo di attesa di dieci minuti si sono fermati un altro caso il tempo di attesa era maggiore di nuore non si sono fermati ma questo di per sé potrebbe non dire niente perché chiaramente la scelta di non fermarsi poteva non essere necessariamente legata al tempo di attesa questo ancora non lo sappiamo lo dovremo capire andando a sintetizzare un possibile albero di decisione che possa in qualche maniera produrre in corrispondenza di questi insiemi esattamente le stesse decisioni yes no yes no che ha ha prodotto l'albero di decisioni incognito del papà allora quindi il figlio deve delle idee circa quali sono i criteri che hanno indotto il papà a fare le scelte che ha fatto e come vedremo come abbiamo già anticipato sarà molto importante la sequenza dei criteri per esempio supponiamo che il figlio ipotizzi che il tipo di cucina sia stato il primo criterio che ha utilizzato il papà per effettuare la decisione per esempio se la cucina poteva essere italiana francese tailandese o mcdonald perché queste sono stati le quattro tipologie di ristoranti che sono stati frequentati dai due dunque però andando ad applicare questo criterio come primo criterio si vede che nel caso della cucina francese come abbiamo appena visto in un caso hanno aspettato in un altro no nel caso della cucina italiana lo stesso nel caso della cucina italandese sono andate ben quattro volte in un ristorante italandese due volte hanno aspettato e due volte no nel caso del mcdonald quattro volte due volte hanno aspettato e due volte no in pratica quello che succede intuitivamente è quello che adottando questo criterio non è che la successiva situazione in cui si va a ci si va a collocare è una situazione in cui la cassistica si è stata ben discriminata soprattutto in considerazione a un possibile altro criterio che il figlio potrebbe pensare il padre abbia utilizzato come primo criterio per effettuare la decisione cioè il numero degli avventori effettivamente se ipotizziamo essere stato questo il numero il primo criterio utilizzato dal padre in corrispondenza a questo criterio ci potrebbero essere tre valori nessun avventore alcuni avventori oppure locale pieno e se andiamo a esaminare i 12 casi vediamo che dei 12 c'erano due casi in cui il numero degli avventori era nessuno e in entrambi i casi il papà ha preso la decisione di non fermarsi a mangiare e quindi questo è molto significativo perché già ha gestito completamente è arrivato alla foglia dell'albero due casi su 12 nel caso in cui gli avventori erano pochi sono stati ben 4 i casi in tutti e 4 i casi la risposta è stata sì e cioè i due si sono fermati a mangiare dunque questo è un gran colpo perché effettivamente si vede che questo è un criterio molto discriminante molto più del tipo della cucina e quindi è un criterio molto importante che andrebbe applicato probabilmente per primo ma ancora non sappiamo perché non sappiamo quanto sarà lungo il sottoalbero che poi si diparte da full perché comunque dei 12 casi che avevamo già ne ha risolti 6 perché sono risolti perché appunto in corrispondenza di questi due possibili valori non e sum abbiamo già raggiunto dei nodi foglia dell'albero nel caso in cui invece il valore degli avventori era locale pieno abbiamo questi 6 casi in cui andava fatta un ulteriore test se supponiamo che questo secondo test sia fame o non fame si vede che addirittura basterebbe effettuare questi due criteri per arrivare direttamente alla specifica della classificazione se tutti gli altri 6 casi vengono gestiti dalla sequenza numero di avventori full e affamati sì no cioè no non è vero perché nel caso di affamati no effettivamente tutti gli esempi che rimangono appartengono alla stessa categoria no nel caso invece affamati yes abbiamo di nuovo due casi in cui ci si ferma due casi in cui non ci si ferma in cui bisognerà applicare altri criteri quindi adesso non so come si svilupperebbe in profondità adesso in ogni caso quello che vediamo che fra i due avventori numero di avventori e tipicità della cucina chiaramente il primo è più discriminante perché ci porta la soluzione già al primo test per due risposte su tre in particolare ci solve già sei dei casi degli esempi ci classifica già sei degli esempi che avevamo in realtà magari poteva essere che se andiamo ad applicare il secondo criterio dopo type sia nel caso di French sia nel caso di Thailand sia nel caso di Thailand magari arrivavamo già alle foglie questo non lo sappiamo perché stiamo sviluppando l'albero però al momento sembrerebbe che il numero dell'avventore sia effettivamente un criterio più discriminante in generale quindi noi dovremmo seguire un algoritmo per un algoritmo ricorsivo di questo tipo abbiamo una funzione che risetirà un albero e che prende l'insieme dei 12 esempi l'insieme dei 10 attributi in base ai quali andranno discriminati gli esempi ed eventualmente degli esempi genitori che sarebbero gli esempi che all'inizio gli esempi genitori coincidono con tutti gli esempi poi vediamo a cosa servono questi esempi genitori e dunque all'inizio abbiamo una serie di tre if innestati in corrispondenza di tutte e tre dei quali c'è una restituzione una chiusura proprio dell'algoritmo di un valore e andiamoli a vedere il primo caso esempi vuoto se il numero dell'esempio è vuoto in un momento qualunque della ricorsione dell'algoritmo che va a generare quest'albero vuol dire che non abbiamo osservato esempi per quella combinazione di valori di attributi che stiamo esaminando all'inizio ancora non abbiamo utilizzato nessun attributo per discriminare i casi all'inizio quindi se ovviamente esempi fosse vuoto all'inizio non abbiamo nulla da prendere ma in generale nel corso proprio della ricorsione se capita questo e cioè se siamo in un caso in cui per capirci dovessimo avere qui un quadrato in realtà nella figura non è non è riportato questo caso ma qualora questo dovesse capitare questo è una dimensione di valori dei test degli attributi che ha portato a quel nodo non ci sono all'interno del trinsetto degli esempi che siano in grado di classificare quella sequenza di valori di attributi dunque a questo punto semplicemente daremo un valore di appartenenza che dipende dall'ultimo nodo che ha prodotto il se per esempio questo fosse stato vuoto abbiamo preso una decisione in base al nodo genitore del nodo vuoto questo è un caso particolare che cosa che gli esempi che sono in una categoria e quindi potrebbe essere per esempio questo caso qui o uno di questi qui ma abbiamo già siamo arrivati a quel nodo avendo già esaminato tutti i dieci nel nostro caso attributi per cui in pratica non abbiamo più attributi che ci possono essere utili per discriminare fra i casi rimasti e purtroppo i casi rimasti non appartengono alla medesima categoria questo cosa significa che non abbiamo abbastanza attributi per discriminare sì potrebbe essere questo come vedremo ma potrebbe anche essere che c'è stato del rumore e cioè che alcuni esempi che abbiamo preso non erano degli errori in fase di percezione dei valori degli attributi nel training set di esempio anche qui dovremmo ricorrere a dare un valore di pluralità in basse a questo in basse a tutti gli esempi da cui siamo partiti però questi sono casi particolari in generale quello che è sperabile che accada se non c'è rumore è che e se abbiamo tutti anche se l'insieme degli attributi sarà in grado di effettivamente arrivare a una classificazione per tutti gli esempi che abbiamo nel training set quello che dovrebbe accadere è che alla fine le foglie sono insiemi di esempi che appartengono tutti alla medesima categoria quindi se tutti gli esempi appartengono alla stessa classe viene restituito la classe e queste sono le tre possibili foglie diciamo così i tre possibili return invece per un nodo non return quello che si fa è alla luce di quelli che sono gli esempi correnti si va a valutare il l'attributo un attributo si va a scegliere l'attributo che alla luce degli esempi correnti che sono nel nodo corrente è in qualche maniera più importante e questo importante è quello che abbiamo visto prima più discriminante cioè quello che ci consente di fare un'operazione più netta possibile quindi cosa significa questa funzione di importanza intuitivamente ho cercato di dirlo è l'esempio che abbiamo visto prima fra avventori e cucina francese cucina tipicità della cucina scegliamo quindi il criterio da adottare per effettuare sostanzialmente il prossimo passo di costruzione dell'albero tant'è che appunto dopo utilizziamo quel criterio per definire un nuovo albero che abbia proprio come radice quel test definiamo quindi un nuovo albero e a questo punto dobbiamo andare a vedere quel test che abbiamo scelto quanti possibili valori ha potrebbe essere un test booleano con due valori o potrebbe essere un test che ha dei valori numerativi e quindi avrà k possibili valori di quel test di quell'attributo per ciascuno di questi k valori che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a vedere quali sono esattamente quello che abbiamo fatto qui quali sono i prodotti che vengono selezionati in base a quel particolare valore di quel test a per questi esempi che sarà s che hanno come valore dell'attributo a proprio quello vk e questo per ogni possibile valore di quell'attributo a e generiamo quindi per ciascuno di questi per ciascuno di questi possibili valori dell'attributo a il relativo sottoalbero utilizzando una chiamata ricorsiva alla medesima funzione in cui passiamo però non tutti gli esempi che avevamo all'inizio ma solo gli esempi selezionati da quel particolare valore vk applicato a quel test che abbiamo selezionato al passo precedente gli attributi a questo punto saranno che passeremo saranno tutti gli attributi che avevamo al passo precedente meno a perché a l'abbiamo già utilizzato l'attributo a è quello che ci ha portato proprio all'esempio corrente e ci portiamo comunque dietro anche gli esempi genitori quindi questi sono gli esempi del nodo genitore questo perché questo ci sarà utile eventualmente nel caso in cui arriviamo ad un nodo che non ha più esempi a questo punto gli daremo un valore una classificazione in basso al valore degli esempi dei genitori quindi a questo punto aggiungiamo un ramo all'albero con quell'etichetta e come sottoalbero gli diamo appunto il sottoalbero prodotto dalla chiamata alla funzione stessa che stiamo definendo quindi questa chiamata ricorsiva ecco questo e ovviamente questo return albero deve essere indentato più avanti perché in realtà no 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 va indentato qui perché comunque questa funzione alla fine restituisce un albero che appunto deve essere utilizzato dalla funzione la funzione ricorsiva deve generare un albero e quindi la funzione stessa restituisce un albero va bene questo ovviamente restituisce l'albero nel caso in cui non siamo su una foglia perché nel caso che siamo a una foglia può restituire la classe oppure questo valore di pluralità dunque se noi applichiamo non abbiamo capito adesso come è fatta qui il criterio di importanza ma se noi applichiamo questo albero di decisione con questa funzione di importanza ignota questa funzione di importanza ci seleziona effettivamente il numero degli avventori come primo criterio come abbiamo visto prima nel caso che poi sono gli avventori pieni come secondo criterio affamati come terzo criterio il tipo di cucina come quarto criterio se è un weekend e basta con questa sequenza di questi quattro criteri quindi quattro attributi quindi alcuni attributi non vengono per niente presi in considerazione dei dieci che avevamo arriviamo a stabilire un albero di decisione che non è come vedete quello del del papà che lo andiamo a rivedere se non vado errato 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e quindi c'era già nel papà un criterio dei dieci che non veniva il bar il bar considerato quello che volevo osservare è che in realtà nell'albero che abbiamo indotto il bar e quindi i criteri siamo in maniera corretta e tutti i 12 gli simplici che avevamo nel training set e quindi alla fine il figlio si potrebbe fare l'idea che l'albero adizionale che utilizza il padre sia questo qui. Certo che poi dopo questo andrà a disposizione, partizionando una prima parte lo si utilizza effettivamente come training set e la restante parte lo si utilizza come test set per validare le scelte operate. Cioè in pratica si fa così, si parte con un solo esempio nel training set, anzi con zero esempi, e a questo punto essendo questo un calificatore booleano la possibilità che ci azzecchi è 0,5, e poi se ne sprende uno, poi due eccetera e si utilizzano gli altri come insieme di test invece che di apprendimento. Ovviamente per ciascun caso, uno, due, tre, quattro, nel training set, si fanno, in questo caso per esempio gli autori hanno fatto 20 simulazioni e cioè hanno preso a caso il primo criterio, supponendo che il training set ha fatto un solo criterio, il criterio, l'esempio fra qui e 12 è stato preso a caso per 20 volte, ha generato quindi degli alberi diversi, dopodiché l'albero è stato testato e così via. E vediamo che all'aumentare della porzione di esempi che viene nel training set, che viene effettivamente utilizzato come training set, l'accuratezza del comportamento, l'accuratezza che cos'è? E' la percentuale di volte in cui l'albero indotto fa effettivamente la scelta corretta valutata sui restanti esempi del training set, quelli che vanno a far parte del test set. L'accuratezza, come vedete, è cresciuta e si è attestata sul 95%, quindi a questo punto è stato considerato che questi 12 esempi potessero essere abbastanza significativi per capire quell'albero di decisione utilizzato dal maestro. Ma come vedete l'albero non è quello che aveva prodotto quei 12 esempi, quindi qui abbiamo ovviamente un valore di incertezza che non è il 100%, anche se fosse il 100% l'albero poteva essere diverso, ma questo non è un problema. certo che qui abbiamo una relativa incertezza in cui possiamo cercare di capire qual è la bontà di un albero di decisione solo in maniera probabilistica, ma è importante capire, infatti è rimasta non indicata solamente intuitivamente, ne abbiamo introdotto il concetto di test più importante da applicare fra quelli che sono ancora rimasti da applicare. Quando partiamo tutti i test che abbiamo, i 10 attributi, nel caso di un altro esempio, sono tutti i 10 possibili test. man mano che andiamo avanti, ogni volta che ne applichiamo uno, ne rimangono 9, 8, 7 e così via. Ma qual è la funzione che abbiamo chiamato prima importanza? Cioè come si definisce l'importanza? Beh, l'attributo sarebbe perfettamente importante se i sottoinsiemi che produce sono costituiti da soli esempi positivi o negativi, nel caso del classificatore booleano. In generale, se produce dei sottoinsiemi di esempi costituiti per ciascun sottoinsieme da soli esempi che appartengono alla stessa categoria, in basse ovviamente alla categorizzazione definita dal maestro, ovviamente. L'attributo invece è perfettamente inutile, come nel caso della tipologia della cucina che abbiamo visto prima, se i sottoinsiemi che produce hanno uguali proporzioni di positivi o negativi, nel caso del classificatore booleano, della stessa proporzione che c'era prima di applicare a quel criterio. Allora, fra questi due estremi, per poter valutare la bontà di un criterio, si utilizza il concetto di entropia, definito da Shannon nel 1949, di una variabile alleatoria v con valori vk. La variabile alleatoria è ovviamente il test, vk sono i possibili valori che potrebbe avere il test. ciascuno dei quali con probabilità p, e in genere l'entropia quindi di una variabile alleatoria iq che può assumere k valori ciascuno con una certa probabilità pk, è la sommatoria di pk per logaritmo in basso di 2 di 1 sulla probabilità che la variabile alleatoria possa assumere quel k-simo valore. Questa ovviamente è una quantità negativa, quindi equivale a meno la sommatoria della probabilità che la variabile alleatoria possa assumere quel k-simo valore per il logaritmo in basso di 2 della probabilità che possa assumere quel valore. Se la variabile in questione è booleana e ha una probabilità q, allora l'entropia di una variabile booleana la chiamiamo b, che ricorda boolean, è data quindi in base a questa equazione da meno q, che è la probabilità per il logaritmo in basso di 2 di q, c'è il meno ovviamente, questa è una sommatoria, quindi più 1-q per il logaritmo in basso di 2 di 1-q. E l'andamento di questa funzione è questa che conosciamo dalla teoria delle probabilità, e quindi sappiamo che se la funzione, la probabilità è 0, abbiamo che l'entropia è 0, ma l'entropia è 0 anche se la probabilità q è 1. L'entropia è massima, cioè vale 1, quando q vale 1 mezzo. Cioè in pratica il contributo informativo che ci dà una variabile booleana a testa croce di una moneta che non ha alcuna simmetria fra le due facce è un'entropia 1, cioè non abbiamo assolutamente alcuna informazione circa quella che potrà essere l'esito del test. Allora, in pratica è la possibilità di un test, che lo chiamiamo goal, se il test è booleano e quindi abbiamo p esempi positivi e n esempi negativi, p più n è tutti gli esempi che abbiamo, p sono gli esempi positivi, quindi il valore di entropia di questa variabile booleana ovviamente se è booleana sarà data dal rapporto da b applicato a p su p più n perché questa è la probabilità appunto q della variabile booleana come si fa se è migliore di un altro? Bisogna vedere applicando questo test quali sono i sottinsimi che questo test produce sottinsimi di esempi ovviamente quindi abbiamo un set di esempi applichiamo questo test in base ai risultati e al valore del test avremo che l'insieme di partenza viene partizionato in una serie di sottinsiemi ciascuno di questi sottinsiemi ha una probabilità che se non abbiamo altre informazioni a disposizione sarà data dalla proporzione fra gli esempi che sono il sottinsieme e gli esempi che c'erano nel settore di esempi prima che applicassimo l'attributo A il test A e più ciascuno di questi TS1 TS2 TS3 e così via avrà lui stesso una sua valore di entropia data dal B applicata ai positivi che saranno qui diviso applicata al numero risultante dal numero di positivi che stanno qui diviso il numero di tutti gli esempi che stanno qui esattamente come si era fatto nel caso originario andando a sommare il valore dell'entropia di TS1 per la probabilità di TS1 più l'entropia di TS2 per la probabilità di TS2 più l'entropia di TS3 per la probabilità di TS3 abbiamo l'entropia di tutto questo stadio qui e quindi si spera che l'entropia di questo stadio qui sia minore dell'entropia che c'era nello stadio precedente ma quello che è importante è che noi dovremmo applicare questo criterio per l'attributo A per l'attributo B per l'attributo C e così via e andare a vedere quale è il test che ci fa guadagnare di più in termini di diminuzione dell'entropia cioè in pratica dobbiamo andare ad applicare il test un test A a un training set producendo i training set TS1 eccetera andiamo a calcolare la l'entropia di ciascuno di questi training set prodotti dal test A andiamo a calcolare la probabilità di ciascuno di questi sottinsiemi che è dato dall'insieme di tutti gli esimi positivi negativi che sono stati selezionati in base al ks valore del test diviso tutti gli esempi del genitore del nodo genitore quindi questo ci darà statisticamente la probabilità che effettivamente il test A possa dare il valore k facendo la somma per k che va da 1 a d dove d si suppone essere tutti i possibili valori nella slide precedente erano k che può sommare il test A l'attributo A andiamo a calcolare quindi tutta la come dicevo prima l'entropia complessiva di questo stadio andiamo a calcolare quindi il guadagno di entropia e sceglieremo come più importante di tutti questa è la funzione di importanza che cercavamo l'attributo che massimizza questo guadagno di entropia bene questo è il concetto vediamo applicato di entropia di entropia supponiamo ad esempio che partivamo dal caso in cui l'entropia era 1 in quanto che avevamo dei 12 esempi ce n'erano 6 positivi e 6 negativi 6 in cui il papà aveva aspettato 6 in cui il papà era uscito e applicando per esempio il criterio o il numero di avventori abbiamo che c'erano 0 avventori in solo 2 casi e quindi abbiamo probabilità un sesto che abbiamo che c'erano solo 0 avventori la probabilità di 0 su 2 è la probabilità di una variable binaria che c'ha 0 e quindi 1 come entropia poi c'erano 4 casi chiedo scusa l'entropia di una variable booleana che ha valore di probabilità 0 è 0 così come è 0 l'entropia di una variable booleana che ha valore di probabilità 1 quindi questi due primi termini anzi questi due primi sì termini danno contributo 0 a questa sommatoria poi c'è questo un mezzo c'erano 6 casi su 12 in cui di questi 6 casi che erano quelli che corrispondevano al caso full per quanto riguarda gli avventori in 2 casi aveva aspettato e in 4 casi era andato via quindi no eccolo qui chiedo scusa in 2 casi avevamo che la risposta era definitiva e in 2 su 6 chiedo scusa e quindi andando a vedere il valore dell'entropia di una variable booleana con probabilità 1 terzo moltiplicando tutto questo per un mezzo abbiamo 0,459 facendo 1 meno 0,459 si ha questo valore 0,541 se noi andiamo a applicare esattamente lo stesso criterio allo stesso modo per calcolare il guadagno entropico al criterio tipo della cucina abbiamo che in 2 casi su 12 il risultato era valore della cucina francese e qui abbiamo che in 2 casi su 12 il valore della funzione booleana era 1 su 2 e quindi 1 su 2 la funzione booleana 1 su 2 da 1 perché il valore di entropia di una funzione con probabilità o mezzo è 1 quindi questo si ripete per tutti e quattro i casi il valore dell'entropia era 1 nel set originario è 1 anche in ciascuno dei training set prodotti la probabilità di ciascun training set dipende dal numero degli esempi che fanno parte di quel training set e quindi 2 dodicesimi più 2 dodicesimi più 4 dodicesimi più 4 dodicesimi ovviamente alla fine abbiamo 12 dodicesimi e quindi 1 meno 1 da 0 allora il guadagno di entropia del criterio tipologia della cucina è 0 cioè non ci sia nessun guadagno su questo training set di partenza invece il guadagno di numero di avventori è 0,541 che è maggiore ovviamente di 0 e quindi per questo ed era anche il maggiore di tutti gli altri tutti i 10 e quindi per quello il nostro algoritmo ha utilizzato la funzione avventori come primo criterio dopodiché abbiamo applicato esattamente lo stesso criterio a questo training set utilizzando i rimasti abbiamo appena l'attributo affamato dopodiché qui è andato ad utilizzare un po' di è il criterio il tipo della cucina quello che discrimina meglio questo training set e quindi ha portato all'albero di decisioni che abbiamo visto allora questo criterio che abbiamo visto per calcolare l'importanza di un criterio risiede però c'è un problemino è che tende a privilegiare il valore dei test che producono un training set con più casi perché la probabilità a quel punto è maggiore per evitare questa si può dividere eventualmente il quadrato da qui un'altra misura di disuguaglianza più semplice da calcolare è il coefficiente di Gini che è dato da 1 meno la sommatoria per tutte le classi della probabilità di quella classe al quadrato questo lo vedremo nella prossima unità didattica quando andremo a presenterò un programma prolog per indurre un albero di decisione è un criterio alternativo a quello che abbiamo appena visto vediamo i problemi che abbiamo supponiamo ad esempio di metterci in un contesto in cui dobbiamo capire se in base a quali criteri tirare un calcio di rigore e supponiamo che il ragazzo della primavera guardi il come si comporta il calciatore che sta in prima squadra ha visto l'ha visto calciare quattro volte una volta ha cacciato rigore con cucchiaio tirando a sinistra ha tirato alto non rasoterra e ci aveva le dita incrociate e ha fatto gol un'altra volta ha fatto un tiro diretto sempre a sinistra questa volta rasoterra aveva le dita incrociate e ha fatto gol poi una volta ha tirato a cucchiaio ha tirato questa volta a destra ha tirato in alto con le dita normali e non ha fatto gol e di nuovo una volta ha tirato diretto a destra ha tirato rasoterra con le dita normali e non ha fatto gol il ragazzo potrebbe indurre come albero decisione un albero che dice intanto dobbiamo mettere le dita incrociate e poi dobbiamo tirare a sinistra ovviamente c'è qualche cosa che disturba disturba il fatto che abbiamo preso in considerazione un criterio che in qualche maniera non non sembra significativo questo ovviamente l'esempio cercherò di fare un esempio intuitivo però di fatto fa parte dell'albero di decisione allora questo è un esempio di quello che viene definito overfitting e cioè che questi alberi di decisione possono in generale tendere a ritenere significativi dei criteri che in realtà significativi non lo sono perché alla luce degli esempi presi effettivamente sembrano discriminanti utilizzando i criteri di discriminazione che abbiamo visto poco fa quello del guadagnio dell'entropia ma in realtà questo è un difetto dovuto alla scelta degli attributi per quel tipo di esempi allora quello che si può fare successivamente ma non lo trattiamo in questo miglioramento è quello una volta prodotto l'albero di decisione lo si può potare andando ad eliminare dei criteri che non sono statisticamente significativi come si fa questo a posteriori si fanno delle applicazioni statistiche con altri esempi di test in maniera tale da eventualmente andare a eliminare dei test all'interno dell'albero che producono delle decisioni che non sono rilevanti e questo però viene valutato su base statistica cioè in pratica una volta che abbiamo utilizzato prodotto questo albero di decisione qui si faranno altri test in cui si calcia sempre a sinistra una volta con le dita incrociate una volta senza le dita incrociate statisticamente si va a vedere se la utilizzando il test del chi quadro quanto è significativo su questi altri esempi specifici che vengono fatti il fatto che ci siano le dita incrociate se non risulta significativo a questo punto l'albero viene potato di questo test e si farà solamente il test di calciare a sinistra perché probabilmente calciando a sinistra sembrerebbe che c'è più probabilità di far gol allora andando verso le conclusion non lo affrontiamo però i problemi sono questi qui cosa succede se abbiamo raccolto degli esempi ma non conosciamo esattamente i valori per tutti gli esempi che abbiamo fatto di tutti gli attributi diciamo che a tutte queste problematiche adesso che illustro le soluzioni sono oggetto di approfondimento di questo argomento cioè della sintesi di albia decisione e qui chiaramente dovremmo fare delle interpolazioni se alcuni attributi hanno molti valori è chiaro che a questo punto per come è fatto per come abbiamo visto la corrispondenza fra albia decisione e forma professionale se l'attributo ha molti possibili valori enumerativi il numero delle corrispondenti lettere posizionali esplode esploderebbe la complessità dell'albero e quindi come gestire questo caso è un bel problema addirittura i valori potrebbero spaziare in molti casi chiaramente bisogna applicare altre tecniche che non sono oggetto di questo corso addirittura potrebbe spaziare nel dominio del corso l'output che fino adesso in questo esempio abbiamo supposto essere un output booleano quindi con due valori in realtà di valori non potrebbe addirittura avere infiniti ovviamente a questo punto il concetto stesso di albero decisione verrebbe un pochino essere messo in discussione e si utilizzerebbero altre tecniche è la prima tecnica per una classificazione di non-dataset sono stati sviluppati molti soft che vengono utilizzati anche in ambito industriale open source fra questi c'è Weka in questo metodo non è adatto rispetto ad altri al dominio del continuo soprattutto quando l'output non è un booleano non è neanche un valore numerativo ma spazio nel continuo cioè il numero delle classi è un numero di classi infinito chiaramente non possiamo utilizzare un'altra decisione ma utilizzeremo altre tecniche e però vorrei concludere in maniera positiva dando un messaggio che conclude anche un po' tutto il modulo tutta la mia la trattazione che abbiamo fatto in questo corso dell'apprendimento perché abbiamo visto solo due tecniche la sintesi delle reti di regole di decisione e questo invece la sintesi di alberi decisione vedremo nella prossima didattica per concludere anche un programma prolog per effettuare la sintesi di un albero di decisione ma siccome c'è nel learning c'è un competitor importante a questo approccio che abbiamo visto che è un approccio logicistico il compenio importante è quello rappresentato dalle reti neurali specialmente in questi ultimi tempi dalle convolutional neural networks che effettivamente hanno delle prestazioni molto importanti le reti neurali però rispetto agli approcci che abbiamo appena visto hanno un limite cioè che effettivamente classificano magari anche bene però non restituiscono i criteri in base al quale hanno effettuato la classificazione cioè noi l'albero di decisione lo possiamo esplorare l'albero di decisione che è stato sintetizzato la classificazione prodotta da una retta neuronale dipende da quelli che sono i pesi che sono dei collegamenti fra i neuroni e questi pesi non corrispondono a una conoscenza espressa in maniera dichiarativa o esprimibile in maniera dichiarativa e quindi ci sono alcuni domini applicativi della classificazione come quei settori della vita umana che sono regolamentati da norme contro la discriminazione come la giusprudenza la medicina eccetera in cui a noi non è sufficiente che la macchina ci classifichi il caso cioè non ci interessa solo sapere se quel neo che c'è sulla pelle è un carcinoma o no quello ovviamente ci importa ma ci importa ci importa anche che la macchina ci spieghi perché è arrivata a prendere quella a fare quella classificazione è arrivata a quella conclusione carcinoma non carcinoma perché noi vorremmo sapere quali sono i criteri che hanno portato a quella scelta lì esattamente anche la sequenza di passi decisionali che hanno portato a fare quella scelta perché per i motivi che ho appena detto cioè non si può mandare in galera una persona perché l'ha detto la macchina non si può decidere se fare un'operazione o piuttosto che un'altra solo perché l'ha detto una macchina nei due approcci che abbiamo visto a differenza delle reti nonali noi possiamo anche esaminare nel dettaglio il perché la macchina è arrivata a fare una scelta e possiamo decidere se condividere la scelta che ha fatto la macchina o meno la macchina la macchina la macchina la macchina